Don't stop thinking about tomorrow Don't stop thinking about tomorrow Nasce oggi Eni3, la prima soluzione Eni con gas, luce e carburanti, finalmente in un unico pacchetto. Eni3 ti consente di gestire le spese di casa e dell'auto senza pensieri, con la quota energia del prezzo Eni gas e luce bloccata per 3 anni e 6 centesimi di euro di carburante omaggio per ogni litro acquistato. Eni gas e luce, la soluzione più semplice. Scopri Eni3 all'800-900-700